baionetta m9 baionetta in polimero ovviamente una replica fermo in cordura lama in gomma amovibile ottimo realismo facilmente richiudibile nel suo povero anche il finto taglia filo spinato ovviamente coincide inoltre abbiamo provato a inastarla su un fucile si di si innesta benissimo perché gli attacchi sono riprodotti in maniera molto fedele libera vendita ovviamente ben costruita passante per il cinturone